Musica Ciao! Sono risuscitata, sono ancora viva e oggi abbiamo deciso io, Giulia e Liana di iniziare a fare dei video sui look delle star in collaborazione con un blog di una nostra amica che si chiama Ilenia e ovviamente nell'info box qua sotto, quindi nelle informazioni, basta cliccare sotto il video dove c'è il titolo, sotto mostra altro, cliccate lì e vedete tutte le informazioni riguardanti questo video perché è appunto una collaborazione con questo blog che ci ha dato la possibilità appunto di farsi conoscere e noi ovviamente di far conoscere lei ci aiutiamo un pochino e tutte le nostre informazioni sui prodotti utilizzati e su altre foto della realizzazione di questo tutorial li vedete ovviamente in quel blog, in quel post del blog volevo innanzitutto salutarvi perché è da tanto che non ci vediamo finalmente ho finito gli esami quindi riuscirò a registrare un pochino di più e questo che vi presento oggi è un look ispirato alla bellissima Rihanna diciamo che non è tanto ispirato ma ho cercato più che altro di proprio copiarlo più fedelmente possibile è uno dei look che lei utilizza di più nelle sfilate nei red carpet oppure nelle serate comunque di gala importanti ai vari MTV Awards solitamente lei indossa quasi sempre questo look gli occhi puntati sul marrone comunque sia lei è una forma di occhio bellissimo allungato e gioca su questi colori del marrone ovviamente rimanendo abbastanza naturale ma puntando soprattutto sulle ciglia verso l'esterno quindi accentuando questa sua bellissima forma di occhio e punta anche moltissimo sulle labbra sempre di colore rosso acceso, rosso fuoco ovviamente lei ha delle labbra mostruose, sono meravigliose poi io ho un debole per Rihanna, proprio la mia cantante preferita in assoluto quindi sono molto contenta di fare questo look ispirato a lei e cosa dire, niente spero che il look vi piaccia e se vi va seguite il tutorial, ci rivediamo presto e un bacione Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.